O Erasmus, poi vennerà la videotrice nei particolari, però al Comune di Como questa iniziativa è piaciuta molto perché Como si trova veramente alla vigilia di grandissimi cambiamenti, per quanto riguarda il suo percorso soprattutto in campo turistico, ma questo vuol dire anche ampliare tutta l'offerta di tutto ciò che si muove intorno al sistema turistico, quindi dall'aspetto imprenditoriale, l'aspetto culturale e anche l'aspetto educativo. Le scuole hanno un ruolo e avranno un ruolo sempre più importante perché rappresenteranno sicuramente la sede di preparazione dei futuri operatori che avranno a che fare con questa esplosione di turismo alla quale cominciamo a prepararci attivamente e nello stesso tempo saranno anche un luogo di accoglienza di tante persone che vengono da via.